e viva la musica che meraviglia se questo è lo spirito di allegria allora ragazzi facciamo la lambe robica allora con chi cominciamo lei ha già parlato facciamo qualche domanda alla nostra maestra che si chiama valeria raugio benvenuta imparerò maestra allora questa disciplina più di una maestra chi ci può spiegare chi ci può dire le emozioni insomma e anche i benefici che si traggono da questa disciplina come ha detto anche la tua collega allora iniziamo con i benefici che è quello che tutti quanti vogliono sapere i benefici non sono solo fisici come psicologici e emozionali la lambe robica tutti quanti dicono dicono che ballare danzare è come tu esternare una emozione un sogno è la disciplina diciamo che tu vuoi ballare che tu vuoi fare da quando era piccola però la lambe robica è molto di più perché se tu vuoi fare ballare è solo per fare vedere genitori o per fare vedere non lo so i mariti è più di questo perché tu non riesci a ballare senza sorridere senza fare festa senza gridare senza scaricare quindi diciamo che la lambe robica è proprio completa che bello che bello allora dovrò fare anch'io un corso di lambe robica per scaricare per dimagrire dato che mi prendono sempre in giro perché io sono una a cui piace mangiare però mi piace anche ballare quindi sono sempre in tempo ma pure noi mangiamo azzai però bruciate tanto credono mi domandano sempre ma valere ma tu mangia azzai io faccio la mia lezione di ho fame ho fame le mamme dei miei allievi mi portano sempre cioccolata sempre caffè perché devo sempre stare mangiando qualcosa madonna mia che bello allora che bello complimenti complimenti e l'altra maestra passiamo la parola anche all'altra maestra benvenuta ti chiami grazie io mi chiamo Leila Raújo non è vero comunque non è vero io già da tanto tempo già faccio proprio parte della famiglia quindi ok mi sento già un Raújo perfetto io mi chiamo Leila Sousa Leila Sousa bene Leila tu da quanti anni fai la lambe robica? io ho fatto il primo corso di formazione quando il maestro è arrivato appena arrivato in Italia sono già sei anni che faccio la lambe robica aspetta 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 non raccontare troppo che lei dopo deve essere intervistata allora silenzio surprise ora balliamo un altro balliamo un altro io però no 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 mi metto lì vi guardo e faccio i passetti sul posto io con questa volta voglio ballare anche io allora maestro bravo maestro